BELLA A TUTTI DA BORKMAZE In più regà Dove bisogna andare? Qui In pratica Avevo invitato tutti i giocatori Ma per sbaglio Che è successo regà? Suicidato Per sbaglio si è avviata la sessione Siamo solo in 5 Io volevo farla in tanti giocatori Ma non è stato possibile Ancora devo capire Che diamine di bug ho appena attraversato Non ci ho capito niente nemmeno io regà Comunque proseguiamo Allora andiamo Dove bisogna andare qua? Di qua regà Perfetto Via 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 Andiamo regà Proseguiamo Peccato regà che siamo un pochi Vi giuro che volevo farla Volevo farla in tanti giocatori Ma non è stato possibile Allora qua che bisogna fare? Bisogna salire Sì? Ok Allora continuiamo Comunque questa gara è stupenda regà Guardate che spettacolo Allora andiamo qua Ok No! È cascato regà Purtroppo è caduto Riproviamo subito Allora vai No regà vi giuro che non è facile Allora dove fare spawn adesso? Ok da qui No terza posizione regà Vabbè seconda Seconda lo devo recuperare tutti i costi Allora andiamo Spostate Ok Andiamo regà proseguiamo Allora Ok Mettiamoci qua E dobbiamo salire qua sopra Che è quello che sta a fare Dai per favore Ok regà Meno male Ce l'ho fatta Aspettate regà Prima di ce l'ho fatta Ok Ora si che sono primo Ma gli altri dove stanno? Stanno tutti ancora là Non si sa il perché Vai 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 Che sto a fa io? Che sto a fa? Allora Andiamo Saltiamo qua Perfetto Che c'è sta qua? Nient'altro Cosa bisogna fare qua? Non lo so regà Dove bisogna andare? Aspettate un attimo Che respawno subito Allora Aspettate regà Che non c'è sta a capire niente Di sta gara Siamo in 5 Che è quello che ha abbandonato? Non si sa regà Via 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 Saltiamo anche qua Oh capito regà Forse Bisogna andare qui Ha preso pure il checkpoint Neanche avevo saltato Ha preso il checkpoint Allora Proseguiamo No 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 Mi ha trollato regà Mi dispiace Allora dai Ricomincia subito Voglio fare la gara Ok Andiamo No Passiamo di qua Sì 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 Perfetto Andiamo qua Di qua di qua Ok Qui cosa bisogna fare? Non lo so regà Fermi tutti Vediamo qua Regà scusate Stavolta non è passato un motorino Stavolta tipo Un apetto Allora Regà non c'è sta a capire niente Di questa gara strana No non penso che bisogna andare di là Ritorniamo indietro Via 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 vai Ma perché so Gli altri ancora non ce la fanno Regà ancora non l'ho capito Che non è difficilissima questa gara Allora Forse devo andare di là Ho capito Vai 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 Ok Sì regà Sta gara è tutta così Tutti sti punti strani In mezzo alla città Ecco E ora No regà Che gara è Dove bisogna andare? E mo? Come si fa andare da quella parte? C'è qualche bug? No Non mi dico che bisogna andare qua sopra Mi sa di sì Vai Ok Sì perfetto Perfetto regà Proseguiamo Proseguiamo di qua Vai vai Ovviamente regà Scaricatela questa gara E giocatela con più giocatori Io per sbaglio Mi si è avviata la sessione E purtroppo siamo in 5 Che ultimamente piace farle tipo in 20 Che c'è Mamma mia un casino Ed è divertentissimo Dai andiamo 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 Proseguiamo Voglio vedere come continua questa gara Vai Ok Passiamo di qua L'ultimo secondo Oh mio dio che sarto Oh mio dio regà Epico Allora dove bisogna andare? Non lo so Ok sì 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 Perfetto Via 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 Proseguiamo Qua c'è sta la palma Frena Qua che bisogna fare? Ok C'è la strada Di là Qui non c'è niente Ok regà forse ho capito Bisogna andare di qua Andiamo No Sono cascato Sono caduto regà Dai 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 Sbrigate No di nuovo da qua Devo continuare regà Super salto di nuovo No 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 Ok non ha saltato Però stavo a casca Vai perfetto Perfetto Allora proseguiamo Ok passiamo di qua Dove bisogna andare Qui Ok ma prima ho saltato proprio tutto qua Cioè manco Manco io so come ho fatto Allora adesso Adesso dobbiamo proseguire Ho capito che c'era la stradina Lì Via Ok Passiamo qua sopra Tranquillamente Vai Vai andiamo proprio Tranquilli Oddio C'ho paura C'ho paura di casca C'ho paura di cadere Ok No è facilissimo qua però Però non si sa mai Via 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 Ok Perfetto regà E adesso Bisogna scavalcare qui regà Bisogna scavalcare Prendiamo la rincorsa E impegniamo tanto Via 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 Oh mio dio Quanto ho saltato Ok regà Perfetto Adesso bisogna andare lì Che spettacolo Via Via Allora facciamo Tutto questo percorso Oh regà C'è qualcuno che mi ha recuperato Finalmente Grandissimo Drek Eiz Si chiama Però non voglio perdere la posizione Quindi non ci fermiamo No 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 Non mi cascare Non mi cascare Tanto sicuramente arriverò il secondo Come succede in tutte le gare Sono primo per un bel pezzo E poi Mi supera qualcuno Via 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 Dai che ce la devo fare Non mi cascare l'ultimo Ok regà Perfetto Mi sa bisogna andare di qua Si No 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 E c'è il traguardo regà Guardate se non mi supera Guardate Dai casca Casca No 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 regà Non ci credo Vaffini che vince lui Dove bisogna andare però Di qua di qua Sto in vantaggio io No No Mannaggia me che sto lento a fare Via 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 Ok regà forse ce la faccio Avvince Forse ce la faccio Vai 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 Prendi il turbo No non ha preso il turbo Però ho vinto regà Se vi è piaciuta questa gara Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Saluto tutti questi suini Bella Grazie a tutti i nostri 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 Grazie a tutti